Blitz antiterrorismo dei carabinieri del ROS in varie regioni italiane, 14 gli arresti eseguiti su disposizione della magistratura dell'Aquila nei confronti di un gruppo clandestino che, richiamandosi agli ideali del disciolto movimento neofascista Ordine Nuovo, progettava azioni violente contro obiettivi istituzionali. L'operazione ha coinvolto anche Padova. Agli arresti domiciliari Marco Pavan, trentenne residente a Piombino Dese, ma nato a Mirano, nel Veneziano. Pavan è ritenuto dagli inquirenti un affiliato operativo dell'organizzazione, cioè colui che ha fornito disponibilità nelle fasi operative di realizzazione del progetto. Secondo gli investigatori, l'organizzazione era guidata da Stefano Manni, 48enne originario di Ascoli Piceno, che si occupava del proselitismo e del reperimento di fondi. I reati contestati sono associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed associazione finalizzata all'incitamento, alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Sono in corso perquisizioni a carico di altri trentuni indagati. Al centro delle indagini del ROS, un gruppo che sulle orme di Ordine Nuovo aveva messo in cantiere azioni violente, utilizzando i social network come strumenti di propaganda eversiva.